Sull'affidamento di alcuni lavori ed incarichi riguardanti il parco depurativo di Pescara, progetto fortemente voluto ottenuto dalla Regione Abruzzo sotto la Presidenza D'Alfonso, in collaborazione con ACA, Ato Pescara, Arap e Comune di Pescara, questa mattina sono arrivate le precisazioni degli enti interessati. Parliamo di progetti complessi, progetti complessi per i quali ACA non è strutturata, con uno studio adeguatamente formato e pertanto ha dovuto per forza procedere con gli affidamenti esterni, professionisti che nel settore ti permettono di fare dei progetti validi ed affidabili. Il parco depurativo ha l'obiettivo di aiutare il disinquinamento del fiume Pescara e quindi anche la pulizia del mare, non solo durante la stazione estiva ma tutto l'anno, ed ha l'obiettivo di potenziare il sistema depurativo fognario della città di Pescara, che significa predisporlo alle esigenze attuali e future. Questo è il suo obiettivo fondamentale. Il direttore dell'ERSI, poi Tommaso Dibbiasi, ha parlato anche dei tempi di appalto dell'opera e delle novità riguardanti le acque fognanti di San Giovanni Teatino e Santa Teresa di Spoltore, che non graveranno più sul depuratore di Pescara. È un'inversione della fognatura, della struttura fognare attuale di San Giovanni Teatino, ma anche di Santa Teresa di Spoltore. Tutti e due questi centri porteranno la fognatura verso il depuratore di San Martino, che ha la capienza. Dopo i progetti, è più di una volta che si avanzano idee, propositi di tempistica, di questo genere, ma se riusciamo ad appaltare queste opere entro quest'anno è un grande successo, un grande risultato secondo noi.